Un omaggio ad un artista straordinario in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa, un evento di respiro internazionale. E' stata inaugurata la mostra Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo, con la quale Senigallia sottolinea in maniera sempre più convincente il suo ruolo di città della fotografia. Dovevamo tanto a Mario Giacomelli, 20 anni dalla sua scomparsa, e penso che l'abbiamo fatto nel modo migliore. Intanto rendendo omaggio all'artista, alla scuola del Misa, alla fotografia a Senigallia e nelle Marche. Non è a caso che siamo la città della fotografia voluta dal presidente Ceriscioli con una legge, perché c'è tanto del nostro territorio, c'è tanto della forma artistica della fotografia, che si ritrova qui, si ritrova nella memoria, si ritrova negli scatti e si ritrova anche nella grande tradizione della regione Marche. Un'esposizione originale ed inedita, con due anime distinte, ma che trovano un punto in comune nel percorso del maestro senigalliese, Mario Giacomelli. Due sono infatti le sezioni, una parte internazionale curata da Ono Arte Contemporanea a Palazzo del Duca, dove sono ospitate 20 fotografie di Giacomelli a confronto con una novantina di scatti di grandi fotografi della seconda metà del XX secolo. A pochi passi all'interno del palazzetto Baviera, Sguardi di Novecento a Senigallia, l'associazione Misa per una fotografia artistica, opere dal 1954 al 1958, a cura degli eredi Giacomelli, che propone una selezione di opere fotografiche dei membri del gruppo Misa, dalla collezione civica Città di Senigallia. A dare ispirazione a questo evento, la grande mostra dei fotografi Ersai, allestita al MoMA di New York nel 1964 e che fu il primo vero riconoscimento internazionale per Giacomelli, esposto insieme ai più importanti autori del tempo, molti dei quali si ritrovano con i loro scatti in questa rassegna Senigallia. Sguardi di Novecento, nell'intenzione dei curatori, non vuole essere una rincognizione onnicomprensiva dei tanti fotografi che hanno partecipato a quel periodo, quanto una selezione di quelli che possono essere messi in relazione con il lavoro di Giacomelli. Abbiamo selezionato 12 fotografi internazionali da mettere in dialogo con il lavoro di Mario Giacomelli. Non è stata una selezione casuale, ma tanti altri potevano essere inseriti in mostra. È stata una mostra che abbiamo curato con un grande lavoro, coinvolgendo archivi importantissimi. E siamo molto contenti della recezione che i diversi archivi hanno avuto nei confronti del progetto. Questa è dimostrazione che il lavoro di Giacomelli è ancora considerato tra i più alti nel mondo della fotografia contemporanea. In mostra le immagini di Nino Migliori, vicino al gruppo Misa nei primi anni della sua carriera. Paolo Monti, grande fotografo fondatore del gruppo La Gondola, che nel 1955 premiò Giacomelli definendolo l'uomo nuovo della fotografia. Gianni Barengo Gardin, autore di fama internazionale e lui stesso amico di Giacomelli. Henri Cartier-Bresson, pioniere del fotogiornalismo e tra i fondatori della celebre agenzia Magnum. Robert Duenot, antesignano della street photography e già apprezzato recentemente in mostra a Senigallia. L'occhio di Parigi Brassai, autore di fantastici scatti della capitale francese e degli intellettuali che l'animavano. Jacques-Henri Lartig, fotografo ma anche noto pittore. Il tedesco Herbert List, celebre per le sue foto di moda e di nudi maschili. Il fotoreporter Ara Guler, che per 60 anni ha ritratto le metamorfosi di Istanbul. Kikugi Kawada, uno dei principali fotografi giapponesi, fondatore del gruppo Vivo. Il colombiano Leo Matiz, artista eclettico, celebre per aver documentato con i suoi scatti il rapporto tra Frida Calo e Diego Rivera. L'altra anima della mostra è quella che osserva più da vicino le radici dell'opera di Giacomelli, quella della sua terra, dalla quale il maestro senigalliese malvolentieri si spostava. I primi passi del suo percorso, quindi, partendo dall'adesione al Circolo Fotografico Misa, nato a Senigallia nel 1954, grazie all'instancabile attività di Giuseppe Cavalli. Sguardi di 900 a Senigallia, l'Associazione Misa per una fotografia artistica, allestita al Palazzetto Baviera, cura degli eredi Giacomelli, propone alcune pagine di quella affascinante storia, breve quanto intensa nella sua sperimentazione artistica. Il Comune di Senigallia ha voluto immettere Giacomelli in un contesto. Al Palazzo del Duca c'è il contesto mondiale dei suoi coetanei grandi fotografi. Qui, al Palazzetto Baviera, invece, c'è il contesto più ristretto dal punto di vista geografico, ma non meno importante, quello del gruppo Misa. L'importanza di questo gruppo è stato senz'altro quello di dare una strada diversa da quella che stava prendendo forma nel dopoguerra. In questa parte sono stati selezionati alcuni scatti particolarmente significativi di Giuseppe Cavalli, Ferruccio Ferroni e dello stesso Giacomelli, la cui storia è strettamente connessa da un lato a Senigallia, città d'elezione per il primo e Natale per gli altri due, e dal fatto che furono l'uno maestro dell'altro in quel laboratorio senigalliese che, anche oltre l'esperienza del gruppo Misa, inciderà fortemente sul dibattito teorico che si è svolto in Italia intorno alle funzioni e dalle estetiche della fotografia. Altri scatti in esposizione, dagli autori Riccardo Gambelli, presente personalmente all'apertura della mostra, Silvio Pellegrini, Adriano Malfaglia, Alfredo Camisa, Paolo Bocci, Bruno Simoncelli, Pier Giorgio Branzi, tutti membri del gruppo Misa, tutti strettamente legati alla figura di Mario Giacomelli, un maestro della fotografia di profilo internazionale che ha lasciato un'eredità artistica di valore inestimabile con opere conservate nei maggiori musei al mondo. Il mondo è arrivato prima che l'Italia come scoperta dell'arte, del valore dell'opera di Giacomelli. Quindi troviamo al MoMA, a New York, come al Museo di Arte Moderna di Tokyo o al Pushkin di Mosca, essendo la sua un'arte che non ha confini comunicativi perché parla appunto attraverso le immagini e quindi riesce a comunicare con chiunque, anche chi non ama la fotografia di fronte a un'opera di Mario Giacomelli si ferma un attimo a dialogare. Con la mostra Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo, Senigallia legittima ulteriormente il suo status di città della fotografia, come voluto alcuni mesi fa dalla Regione Marche con un'apposita legge. Quando abbiamo approvato la legge che indicava Senigallia come città della fotografia abbiamo riconosciuto una storia, una storia importante, una vocazione, tante persone che negli anni si sono impegnate per utilizzare al meglio questo grande mezzo espressivo artistico che è la fotografia attraverso mostre, convegni, dibattiti, un'attività veramente intensa sotto questo profilo. La mostra è promossa dal Comune di Senigallia, in particolare dall'Assessorato alla Cultura, insieme alla Regione Marche ed in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Iesi. Sarà visitabile a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera fino al 5 luglio.